Clutch è un podcast che parla di sport, concentrandosi sulle vittorie insperate e le sconfitte più dolorose, i momenti cruciali della vita di atleti formidabili, dialoghi condotti da Andrea e Matteo, amici da una vita e malati di sport, con l'intenzione di informare, appassionare e condividere riflessioni. Questo è Clutch, l'epica dello sport. Ciao a tutti e benvenuti a Clutch, l'epica dello sport. Io sono Andrea. E io sono Matteo. Allora, oggi anticipiamo un po' una puntata che ci teniamo nel taschino da qualche settimana, poi Netflix ce l'ha servita su un piatto d'argento, per cui oggi di chi parliamo? David Beckham. Per te David Beckham è stato un... Un idolo. Ah, proprio un idolo. Totale. Ok. Totale, cioè io quando ero piccolo, diciamo dalle elementari fino alle medie, per me lui era il calciatore. Cioè era proprio un po' perché, non so perché da piccolo io avevo questo bisogno di identificarmi con qualcuno che fisicamente avesse qualcosa in comune con me, quindi era biondo, con gli occhi azzurri, per me David Beckham era il mio riferimento calcistico, automaticamente. E poi perché mi impressionava questa roba della palla che girava tantissimo, i cross, le punizioni, il fatto che col piede da fermo fosse così impressionante. Tant'è che io quando giocavo al mare o a calcetto, insomma in generale, mi allenavo sempre a tirare a giro per Beckham. Infatti giocavo sempre in posizioni un po' più arretrate, c'avevo un mio amico che giocava da nove, poi nel tempo invece per caratteristiche mie io ho sempre giocato da punta. Però mi è rimasta la cosa di tirare a giro per esempio, cioè io, per me lui era l'icona del calcio percellenza. Forse anche perché, a dirla tutta, dietro ci fosse anche questa immagine super glam di questa star a tutto tondo e secondo me se dovessimo fare un po' un'analisi su quella che era la nostra generazione, noi più che dai soldi eravamo attirati dalla fama, quindi da questi personaggi che spiccavano e ce la facevano e a un certo punto te li trovavi dappertutto. Dubbiamente è stato il primo calciatore che è diventato l'imprenditore di se stesso. Però per me, per esempio, Beckham non significa idolo. Io in quegli anni avevo altri idoli che poi... Veron te preferivi a Beckham. Il destro di Veron per me ha un po' più di poesia rispetto al destro di Beckham, nonostante riconosco indubbiamente la qualità di Beckham. E forse mi ha aiutato anche a rivedermi questa miniserie che ha fatto Netflix per apprezzare ancora di più quella consapevolezza di oggi, quindi anche quella possibilità di vedere con occhi diversi il calcio, perché effettivamente lui è stato un po' uno spartiacque, sia a livello mediatico, perché l'attenzione mediatica che poi lui ha ricevuto è una cosa unica nel mondo del calcio. E poi perché effettivamente lui in campo, forse anche per una narrativa, che è quella che poi ci arriva a noi da parte dei media, in realtà ha ottenuto tantissimo, perché non è uno di quelli belli e basta, è uno di quelli belli e bravi e che ha vinto. Sì, però ti devo dire che secondo me il calcio in questo è stato sempre un po' ingeneroso con David Beckham. Infatti mi è piaciuta molto questa serie Netflix, mi è piaciuto molto il taglio registivo che gli è stato dato da Stevens, e mi è piaciuto molto il fatto che sia stato Beckham in primis ad aver promosso questa iniziativa, perché David Beckham, prima ancora di essere un grandissimo calciatore, è un grandissimo imprenditore di se stesso, e non solo guardiamo al progetto Inter Miami, ma poi ne parleremo. Questa puntata non sarà magari strutturata come una puntata classica di Clutch, perché è evidente che il lavoro che è stato fatto su questa serie mortificherebbe la puntata, noi non possiamo competere con quel tipo di narrazione lì, e quindi facciamo più un commentario di quelle che sono le impressioni sul calciatore e anche su quella che è stata la serie. Quello che posso dire io è che secondo me David Beckham è sempre stato underrated, cioè è sempre stato sottovalutato. Perché? Perché è bello. Quindi il fatto che lui sia un bello, uno particolarmente anche attento, ha un certo tipo di cura dell'estetica, che negli anni 90, negli anni 2000 era vista come una cosa che ridicolizzava la virilità. Tra l'altro chiudiamo parentesi con lui giocava in squadra con Roy Keane, che è tutto tranne che un'icona di stile, pensiamola in questo modo. Lui giocava in squadra con Roy Keane, giocava in squadra con Cantonà, giocava in squadra con gente di un certo calibro. Però già un Cantonà con il colletto alzato, in qualche modo creava quel personaggio. Sì, però è l'uomo, è l'alfa che dà il calcio sul petto del tifoso che lo insulta, Cantonà. Cioè uno un po' che corrisponde a brutti, sporchi e cattivi, mentre Beckham, come dice anche Victoria nella serie, la prima cosa che gli dice sempre è controllami i capelli, vedimi se sto a posto, eccetera, eccetera. intorno ai capelli di Beckham, cioè io credo di aver avuto tutte le acconciature di Beckham da piccolo, praticamente. Non lo ricordo. Credo di averle avute tutte. No, la boccia no. La boccia no, non in quegli anni. Poi ho avuto anche la boccia, ma non per Beckham, semplicemente perché mi volevo fare i capelli corti. Lì non l'ho seguito, però la cresta quella così ce l'ho avuta, ce l'ho avuta un po' tutti. I capelli lunghi chiaramente ce l'ho avuti. Però tornando a lui, io credo che ci sia sempre stato più l'accento sull'uomo mediatico e meno sul calciatore, e invece lui è un grandissimo calciatore. Rimane molto anche nella storia la frase di George Best, che è stato il primo, forse è stato sicuramente uno dei più grandi numeri sette del Manchester United, quanto è importante la maglia numero sette del Manchester United, e che dice di Beckham, non sa calciare col piede sinistro, non sa colpire di testa, non sa contrastare, non fa tanti gol, per il resto è uno a posto. Chiaramente questa è una frase, è carina, è una boutade. Non è così. Beckham sa contrastare la palla, è uno che ha fatto tanti interventi difensivi di ripiegamento, ma non è tanto quello. Beckham è un leader carismatico all'interno di tutte le squadre in cui ha giocato, e ha giocato principalmente nel Manchester United del treble di Alex Ferguson, quindi la massima espressione del Manchester United di Alex Ferguson, e nel Real Madrid de los Galacticos. Quindi attenzione a quando si parla di David Beckham, e ci concentriamo solo su il capello perfetto, la vita, il matrimonio con la posh Spice Girl. Però su questo ti faccio io una domanda. Quanto siamo influenzati da quello che ci viene riportato? Tantissimo. Ti dico, rispetto a quella che è la carriera di David Beckham, noi ci ricordiamo che è sposato con, che ha fatto quel genere di vita, e poi magari ci scordiamo che è uno dei personaggi, dei protagonisti di un risultato storico, che è un triplete, perché effettivamente il Manchester United non è che poi dopo Beckham ha rivinto tre trofei così importanti, e ci scordiamo che in quel Manchester United lì, lui faceva la differenza, cioè era lui il campione di quella squadra. Si stava scherzando. E io riguardando la puntata, le puntate della docuserie, mi sono reso conto di quanto la mia percezione, quando ero piccolo, e quindi vedevo quella finale di Champions League contro il Bayern Monaco, pensavo che il Manchester United fosse una corazzata. Sì. In parte lo era, ma se poi vedo gli undici giocatori schierati in campo, prima dell'inizio della partita contro il Bayern Monaco, mi è da pensare pure che effettivamente Beckham era il più forte in campo. Sì, sì. Senza un dubbio. Non è che ci stavano mezze misure, David Beckham era l'immagine di una squadra che ha vinto tutto quello che c'era da vincere, e dove lui era il più forte giocatore in campo. Punto e basta. A me la cosa che mi impressiona, e secondo me questa, non mi puoi dire quello che vuoi, mettiamoci dentro pure Verón, ma io ci metterei dentro solo Ronaldinho. L'unico giocatore che per me riesce a fare quelle aperture da campo a campo con la palla che ti muore sul petto è David Beckham. Cioè, quello che oggi è da quinto a quinto e che magari prima si giocava più con un cross dal metà campo verso la tre quarti dall'altra parte, verso l'altra ala. Ma io sono sicuro che a te ti rimane in testa questa cosa, perché il gesto tecnico che lui fa è talmente tanto spettacolare e televisivo, perché il modo che lui ha di inclinarsi, il modo che ha di calciare, ti rimane molto più negli occhi rispetto a un ottimo giocatore che fa la stessa identica cosa, ma non ha quel tipo di tecnica, di approccio proprio alla palla. Sicuramente io sono… Infatti lui lo racconta, eh. Ma io infatti sicuramente sono un cultore del gesto. Tant'è che ricordo, quest'estate stavo discutendo con mio fratello, parlavamo così al mare di le top ten, le top five e mio fratello è un pragmatico, analitico e lui diceva non dobbiamo perdere tempo, ci sono i numeri, cioè tu vedi i numeri e fai la classifica, non c'è tanto da fare, qualsiasi sport sia, qualsiasi cosa sia. E io dicevo non puoi ragionare così e lui mi diceva ma perché tu sei un romantico, non stai là a… non puoi dire che quel giocatore è meglio di quell'altro se quell'altro ha vinto X trofei. Quindi è vero, io non ho una… poi qui si aprirebbe una stagione a parte quindi lo facciamo morire subito il discorso. Però il discorso è proprio quello, è che a me vedere come calciava la palla a Beckham e la parabola che la palla poteva prendere mi affascinava oltre ogni misura e tra l'altro è l'inganno perché spesso i portieri rimangono fermi sulle palle che tira Beckham. Anche sulle punizioni. Esatto, non riescono proprio a interpretare la parabola. Riguardando le punizioni che vengono proposte all'interno delle quattro puntate mi è saltato all'occhio fondamentalmente due cose. La prima è che tutti i gol che lui ha fatto e sono tanti su punizione erano un buon 70% di riaggiro sul palo più lontano, sul secondo palo, quindi sul palo più lontano del portiere. Punizione da anche oltre 30 metri. Lontanissimo, con barriere anche importanti che gli venivano perché chiaramente era diventato uno specialista quindi tutti quanti sapevano che dovevano difendere quel tipo di situazione. Dall'altra parte però tantissimi gol li fa anche sul palo del portiere tirando di potenza. Tirando di potenza quindi lui riusciva ad unire sia una precisione che veramente unica nel suo genere perché oggi come oggi forse ci faccio caso solo io ma quanto poco si segna su punizione? Si segna di meno su punizione? Ci sono meno specialisti? Ci sono anche meno punizioni. Ci sono meno punizioni però io quello che noto nel calcio moderno è che rivedendo gli highlights di David Beckham ha avvitato tantissime punizioni. Vedendo gli highlights dei campionati recenti quindi non so anche solo quello passato non ci sta un giocatore tanto bravo nel tirare le punizioni a parte Leo Messi che ha i numeri più importanti nella storia del calcio. Guarda, ti potrà sembrare una stupidaggine quella che sto dicendo e magari lo è però potrebbe essere legato anche su quanto è cambiato il gioco cioè prima il numero 10 era un trequartista che spaziava al centro del campo e che tutti volevano apprendere a calci sugli stinchi e quindi ci si trovava in più situazioni in cui effettivamente quella era un punto nevralgico del gioco e lì si sviluppavano le punizioni. Oggi sia per velocità sia per sviluppo sulle catene laterali quindi il gioco sulle fasce per come si è impostato il gioco sulle fasce sia per il ruolo della mezzala e l'evoluzione che ha preso se fai fallo in quella posizione vuol dire che già stai correndo all'indietro secondo me. Sì, questa è un'analisi giusta perché poi se ci pensi ormai si tende molto più a fare densità in mezzo al campo per chiudere le linee di passaggio e quindi il gioco inevitabilmente si sviluppa molto più lateralmente rispetto a quanto magari potrebbe essere prima. poi il Beckham gioca pure in un campionato che ancora oggi è un campionato dove le marcature sono un pochino più larghe rispetto alle nostre quindi c'è più campo da attaccare però che falli che si becca nella serie si vedono dei falli uno che mi è rimasto impresso è quello dove lui subisce questo tackle e cade e cade con la testa contro il campo si ribalta in poche parole però sbatte la testa si tiene le mani in testa un secondo dopo sta in piedi con la mano sulla testa così io pensavo oggi come oggi è un pallo del genere rimani lì e basta no ma pure quello che gli entra col piede a martello praticamente sul ginocchio con i tacchetti esposti che oggi saresti radiato per sei mesi infatti Roy Keen dopo se lo aggrappa se lo porta a sé e anche poi forse nel punto più basso della sua carriera se il punto più basso possiamo parlare di un punto più basso questa è anche la cosa bellissima di Beckham che il punto più basso l'All It's Lost e il Clutch Time si condensano praticamente in due anni sì praticamente quasi in un arco temporale veramente ridottissimo perché e tra l'altro ora ci arriviamo perché nel suo All It's Lost che è tutta la storia che infatti spoiler alert per chi ancora non ha visto la serie Netflix lui viene espulso dando un calcio di reazione che poi calcio mi sembra grossa a Diego Simeone durante gli ottavi di finale di Francia 98 dei mondiali e la sua espulsione non determina neanche la sconfitta dell'Inghilterra ma gli viene accollata questa sconfitta e lui subisce un fango mediatico talmente importante talmente consistente devastante per la sua esistenza che il successivo anno e mezzo tutti gli stadi della Premier League lo fischieranno tutto il tempo subisce pinacce di morte subisce la qualunque veramente un qualcosa che trascende il calcio e che lo può subire solo uno che ha quell'occhio mediatico addosso perché è chiaro che è chiaro che quel fango fa vendere i giornali sì però rivedendo quelle immagini una cosa ho notato non so se concordi con me la prima che il CT dell'epoca dell'Inghilterra sfrutta totalmente l'immagine di Beckham per fare scarica barile di responsabilità rispetto all'esclusione da un mondiale che tra l'altro l'Inghilterra esce ai calci di rigore ora ai calci di rigore puoi essere in 8 in 10 in 11 comunque può fare la differenza può non fare la differenza la presenza di Beckham possiamo parlare sul fatto che lui sia uno specialista dei calci di rigore quindi magari averlo ti fa comodo però abbiamo detto anche che Zidane che non calcia nel 2006 ha avuto un impatto sì però Domenec non è che è andato in conferenza stampa a dire è tutta colpa di Zidane se non abbiamo vinto i mondiali a me la cosa che non è piaciuta è stata il scaricare la totale responsabilità di un fallimento che noi italiani conosciamo bene può accadere certo ma si perde i rigori si perde si esce addirittura noi non ci qualifichiamo ai mondiali ma noi siamo sicuri che quell'Inghilterra lì era una competitor accreditata a poter arrivare in fondo a quel mondiale perché ricordiamoci che il calcio dei fine anni 90 presentava soprattutto nell'edizione di Francia 98 delle squadre incredibili delle squadre dove tu è vero c'avevi Michael Owen David Beckham c'avevi comunque una buona squadra un'ottima squadra però c'avevi pure un contorno ma infatti è un tema di natura strettamente mediatica perché qui non stiamo parlando di una finale ma stiamo parlando di ottavi di finale quindi tu non puoi aver costruito mediaticamente l'immagine della nazionale che vince tutto e non ha dimostrato nulla ancora e accollare poi la sconfitta un uomo solo quando la sconfitta è sempre collettiva in uno sport collettivo come la vittoria e dall'altra parte non fai conti col fatto che l'Argentina al turno dopo ai quarti esce fuori con un'Olanda che c'aveva Stam Van der Sar Debitz Overmars Bergkamp cioè di cosa stiamo parlando pensi che veramente che l'Olanda e non ho ancora detto Brasile parte esatto Francia un chicco di quello che c'è la stessa Italia tra l'altro l'Italia del 98 era fortissima la Francia del 98 era fortissima infatti è diventata campione del mondo il Brasile del 98 era mosfuso a me quello che non mi è piaciuto è proprio quel tipo di comunicazione che ha innescato poi una caccia all'uomo sì cioè il fatto che David Beckham deve subire un attacco personale perché poi diventa un attacco personale da tutti i tabloid britannici che sappiamo non essere stinchi di santo cioè nel senso sono terribili cercano lo scoop a ogni costo e soprattutto non ti lasciano spazio perché quello che io ho percepito è che noi siamo abituati noi perlomeno che siamo di Roma abbiamo l'immagine di un Francesco Totti idolo della città o comunque dei tifosi della Roma che non può uscire di casa fondamentalmente perché è ostaggio della sua fama però per l'amore dei tifosi per l'amore non perché rischia di essere ammazzato David Beckham riceveva le pallottole dentro dentro le lettere mi piace come sia in Beckham sia nello speciale su Ronaldo il fenomeno che fecero su Dason si mette si accende un riflettore su il tema della salute mentale nei calciatori professionisti la pressione sia la pressione positiva sia la pressione negativa o la pressione mediatica in generale può portarti alla depressione può portarti ad avere delle patologie psichiatriche psicologiche che ti possano far star male ed era un periodo in cui ho visto anche un'altra intervista che ha fatto tra l'altro in un talk con Gary Neville Roy Keane ci sono diversi ex calciatori e lui diceva mio padre proprio parlando di salute mentale diceva mio padre mi diceva fatti forza vai avanti cioè non c'è non c'è sì è emblematico anche la risposta che dà a uno degli autori della docu serie in cui la domanda è David come ne sei uscito e lui momento di silenzio dice non lo so sinceramente non lo so e si vede che comunque le cicatrici di quell'anno continuano a buttare sangue nella dentro di lui perché lui Beckham ha questa caratteristica che è aveva una voce acuta se ti ricordi quando era più quando era giovane c'ha sempre questo atteggiamento un po' timidino tutto bellino con i capelli biondi tutti curati e quindi uno pensa è un bambino invece Beckham è un uomo e si è dimostrato tale perché riuscire a reagire a quella roba lì quindi avere avere quella forza d'animo di tirare fuori la migliore stagione della tua carriera l'anno dopo che è successo quello che è successo e arrivare poi veramente a fare il clutch time della tua carriera che è quello di battere i due corner sempre con queste parabole incredibili che portano al gol di Scheringham e al gol di Solskjaer che ribaltano 2-1 la finale di Champions League con il Bayern Monaco a Barcellona nei minuti di recupero quindi più clutch di così si muore è una roba da top player è una roba da gota del calcio non è una una cosa che fa chiunque ma soprattutto è una roba da persona che riesce veramente a reagire che non non si nasconde dietro le fragilità e dietro i problemi a me ci sono stati guarda se dovessi riassumere quello che le cose che più mi hanno impressionato di di Beckham che che vengono raccontate da lui stesso sono la sua estrema professionalità che lo porta anche nella stagione a Real con capello che lo mette per mille vicissitudini varie in un angolo perché lo esclude dalla rosa lo porta ad essere comunque quello che arriva ogni giorno al campo allenamento del Real si allena a parte escluso totalmente dal gruppo con un preparatore dedicato corre intorno agli altri che intanto si esercitano giocano insieme lui da solo perché lui è un professionista ed è pronto cioè lui sa che deve farsi trovare pronto perché nel momento in cui poi verrà chiamato effettivamente lui sarà pronto per giocare ora quindi tornando a me mi ha impressionato la sua professionalità e il suo modo di riuscire la sua un termine che odio però la sua resilienza perché perché la vita privata non l'ha mai portato a compromettere le prestazioni sportive ed è una cosa strana e vi spiego in che senso noi un po' siamo abituati ultimamente a dire ah però se sei un atleta devi essere casa e chiesa tra virgolette devi pensare all'alimentazione a quello a quell'altro per riuscire a performare al meglio delle tue possibilità bene lui ci è riuscito nonostante una moglie che aveva una carriera molto importante da portare avanti grande quanto lui grande quanto lui e che quindi portava David magari anche di notte a partire da Manchester e arrivare a Londra per vederla a dieci minuti per poi ripartire con la sua macchina e ritornare e il giorno dopo stare al campo allenamento pronto e l'altra cosa che mi ha impressionato che da fuori non avevo colto era il rapporto con Gary Neville con Gary Neville e con Ferguson cioè per me il livello di percezione che avevo io era di un allenatore che non fosse così tanto padre dei suoi giocatori fosse più un sergente di ferro in realtà Sir Alex Ferguson era un sergente di ferro perché aveva delle regole a cui nessuno si poteva sottrarre maniaco del controllo maniaco del controllo tant'è che quando però lui era molto protettivo perché le immagini a me mi rimangono in mente le immagini di Beckham bambino praticamente perché nel momento in cui viene ingaggiato dal Manchester United mi pare avesse 13 anni you're better be good quando gli dicono devi essere speciale perché se stai sempre in mezzo a noi e ci sta questa immagine di Beckham seduto negli spogliatoi che sfoglia un libro una rivista non si capisce bene e vicino c'è Ferguson seduto quindi il capo allenatore della prima squadra che si mette accanto a un ragazzo appena ingaggiato e lui già in divisa tra l'altro mi piace da morire la giacca con lo stemma lasciami in pace su queste cose perché veramente belle 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 che fanno a contrattare con la divisa invece dell'Inghilterra che sbarca in Francia per il mondiale del 98 con quel verde o sceno sì gli abiti mamma mia tremendo però mi ha fatto rire tantissimo Rio Ferdinand se non mi sbaglio che dice perché a me mi sta malissimo a te sembri bellissimo è andato a un sarto e quindi questo aspetto anche di familiarità che poi lui dice io fosse per me io sarei rimasto per sempre in Manchester United quindi quell'attaccamento alla squadra che era la squadra del papà per cui il papà sempre di fatto e nonostante avesse avuto un'infanzia con un papà che lo allenava tutti i giorni cioè un altro Agassi un altro Agassi cioè proprio nel giardinetto di casa lui doveva tirare bene tanto quanto col destro tanto quanto con il sinistro una follia una follia che oggi al padre di Beckham tutto sommato gli continua a fartire follia che ha pagato e quindi vedi come al solito le cose non sono mai né bianche né nere come come Ferguson non è né bianco né nero perché poi si può dire che è giusta la maniera in cui Ferguson vede Victoria Beckham direi di no però dall'altra parte ti provoco in un impianto in un sistema che funzionava funzionava a tal punto per cui se Alex Ferguson diventa uno degli allenatori più longevi della storia del calcio perché lui rimane no stop nel Manchester United praticamente tutta la sua carriera da primo allenatore con pressioni gigantesche perché chiaramente poi quando sei a livello massimo subisci pressioni grandissime la domanda è al posto suo una potenziale minaccia per quel sistema collaudato vincente non avresti cercato in qualche modo di respingerla immediatamente anche non sapendo che poi magari effettivamente non era una minaccia sono tempi diversi secondo me la vera risposta sta nel fatto che sono epoche diverse quelle che sono passate perché oggi ti direi stai fuori dal mondo nel provare a controllare la vita privata di un professionista in maniera così capillare non puoi permettertelo non è giusto non importa quanto venga pagato cioè se lui performa non hai diritto di fare questa roba qua se lui non performa hai diritto di mettere in discussione un po' tutto ma quello è un problema secondario non lo puoi fare in maniera prioristica contestualizzato nel tempo e soprattutto dando la giusta connotazione a quello che è il rapporto tra Beckham e Ferguson quindi un rapporto allievo mentore ma anche figlio padre in qualche modo perché è proprio lo stesso padre di Beckham che lascia le redini della paternità ad Alex Ferguson ma poi David lo ammette senza problemi lo dice lui infatti lo diamo per assodato allora diciamo che lo capisco di più ma non lo giustifico l'aspetto che che poi mi fa che invece a me per esempio venendo alle cose che ci hanno colpito mi è piaciuto molto scoprire Gary Neville come personaggio anche a me veramente poi definito alla fine un fratello sì veramente un rapporto stupendo quello che hanno loro due ma la cosa che che ho sempre sospettato in qualche modo e che invece questa serie mi ha dato conferma è stato come il fatto che lui abbia poi costruito si sia costruito un impero negli Stati Uniti ma si è andato a costruire proprio la sua vita negli Stati Uniti mi ha dato la percezione del fatto che effettivamente rispetto al suo It's Lost ha avuto un impatto quello cioè Manchester Inghilterra ti amerò per sempre ma non posso restare perché quello che ho subito è troppo però in realtà lui voleva restare sì però non vive là con la famiglia i figli non li ha cresciuti là è andato in un posto dove per fortuna io sì sono una stella ma sto in mezzo ad altre stelle quindi posso vivere più o meno una normalità e l'altro aspetto che mi è piaciuto tantissimo è il giorno dopo che lui smette di giocare a calcio compra fonda l'FC Inter Miami che oggi è la squadra più fashion del calcio che è rosa e nera con questi due ironi lo stemma di Miami bellissimo con Messi e con Lionel Messi all'interno tra l'altro c'è un'intervista in cui ti dice di come lui è riuscito a convincere Messi e del fatto che a un certo punto di notte gli arriva il messaggio che Messi viene lì e sveglia Victoria Beckham che sta tutta addobbata e fa che cosa c'è sta arrivando sta arrivando e lui non riesce più a dormire perché sta venendo Messi nella sua squadra effettivamente ora c'è un'attenzione intorno a quel progetto incredibile e ti devo dire che anche dal mio punto di vista vedere Messi che scherza nell'MLS con Beckham che lo guarda in tribuna e tutte quelle star incredibili è uno spettacolo poi tra l'altro mi è piaciuta anche la parte in cui lui si trasferisce a Los Angeles perché c'è anche una presa di coscienza quindi una consapevolezza diversa nel momento in cui Dewey deve scendere in campo e si rende conto che il livello all'epoca del campionato americano è nulla è talmente tanto basso poi chiaramente viene forzata la mano vengono fatti vedere le immagini delle gente che si scontra il peggio del peggio che forse giusto la jalapas potrebbe utilizzare in qualche puntata di mai dire gol però lui è talmente tanto ancora un calciatore è talmente tanto professionista ma soprattutto si sente ancora un calciatore in grado di fare la differenza che chiede di essere ceduto in prestito poi lì inizia il ritorno in Europa quindi con la stagione fatta al Milan e mi piace perché nonostante il contratto poi possiamo stare a parlare sono professionisti i soldi spostano non spostano non è questo il tema della nostra puntata però il fatto che lui una volta che prende coscienza che quello non è il suo livello cioè lui che sa fa cioè lui batte un calcio d'angole e dice non c'è nessuno io ero abituato io ero abituato a batterlo in quel modo perché sapevo che lì trovavo un mio compagno ma qui non trovo nessuno perché neanche saltano e è una presa di consapevolezza che forse la chiamata non è stata giusta però tutti sbagliano tutti questi grandissimi campioni se tu ci fai caso nel momento in cui arrivano nella parabola discendente anche quelli però secondo me lui non era nella parabola discendente perché quando lui sceglie di andare a giocare negli Stati Uniti lo fa per risposta d'orgoglio al fatto che Capello e Real Madrid lo ripudiano gli dicono no qui tu non avrai più spazio è il caso che cerchi un'altra disistemazione però quando poi Capello lo riprende squadra perché gli serve e perché devono vincere la Liga e quindi lui nel suo palmaresse inserisce anche una Liga vinta col Real Madrid lui in realtà in quel momento per me non è nella fase discendente della sua carriera sicuramente a 32 anni però vabbè però non è il David Beckham di 27 anni ma non è neanche quello che deve andare a fare il pensionato negli Stati Uniti sono d'accordo però però è una scelta di vita una scelta di vita familiare però è vero anche che se tu fai caso alla parabola alla fase discendente dei grandissimi campioni anche Michael Jordan hanno tutti tutti a un certo punto prendono delle decisioni che dici o cioè Totti che non vuole smettere si crea quell'anno assurdo con Spalletti tutta la città divisa Michael Jordan che a un certo punto anche lui non alla fine della carriera ma in parabola discendente diciamo va a giocare a baseball cioè ci sono degli elementi in cui un atleta può avere della confusione in testa però Michael Jordan poi torna e vince eh sì ma in realtà poi torna e vince ma anche lui sperava probabilmente di unendosi a quel Milan che non era un Milan scarso no di tornare e vincere solo che poi ha firmato un contratto gli americani sono abbastanza dritti sui contratti e gli hanno detto no way ma il discorso che fa anche il proprietario dei Galaxy secondo me è corretto cioè nel momento in cui tu apponi la tua firma su un contratto lo devi rispettare punto e basta anche perché c'è stato un ingente investimento economico non scordiamoci che fanno un'eccezione al salary cap della Lega che è ridicolo che poi ne potremmo stare a parlare pure qua altre dieci puntate perché 13 mila dollari per un giocatore professionista di calcio per quanto la Lega 13 mila dollari non sono neanche credo lo stipendio cioè di una professione tra quelle più umili che qualcuno possa in America per cui quello assolutamente borderline come situazione a livello di contratti però lui si assume la responsabilità quindi torna a giocare lì e vince pure lì ora vince sicuramente non sarà il suo più grande trionfo un'altra riflessione che avevo fatto è sul fatto che appunto un uomo e la sua donna spesso si influenzano e loro sono effettivamente una coppia fashion in tutto e anche le scelte delle città in cui ha giocato cioè lui è vero che nasce e cresce a Manchester però poi va a Madrid a Los Angeles a Milano e a Parigi che sono gli epicentri della moda e del del lusso della dello star system dello show business in generale quindi poi non è un caso non è casual cioè questa roba non è casuale e non è casuale che lui ama la sua patria e si riconcilia con la sua patria ma che non vive lì lui vive in America cresce la sua famiglia in America in un sistema che gli viene più congeniale rispetto alla creatura che è diventata sì sì e poi gli permette anche di avere una vita un pochino più normale perché un altro passaggio di Victoria che dice finalmente io posso accompagnare i miei figli a scuola e li posso accompagnare in una scuola che ha un vialetto privato dove non ho i paparazzi che mi devono seguire e che quindi mi mettono ancora più pressione anche in un'attività che parliamoci chiaro cioè dovrebbe essere la cosa più banale del mondo cioè accompagnare il proprio figlio a scuola per loro non era normale per loro non era normale andare a fare la spesa non era normale poter uscire di casa essere seguiti in continuazione essere fotografati nella propria intimità noi non ce lo immaginiamo ma è una situazione che è troppo facile ed è troppo riduttivo secondo me è banale veramente una chiacchiera da bar dire eh ma con tutti quei soldi me lo accollo non è vero non è detto perché i soldi non colmano magari te lo accolli ma i soldi non colmano quella paura e soprattutto devi avere una forza mentale tale da poter resistere a quella pressione perché ragazzi qua parliamo di una vita vissuta al limite anche la resistere alla tentazione di reagire esatto perché lui è bravissimo cioè lui sta dentro la macchina i tifosi lo insultano gli sbattono le mani e tutto quanto io forse avrei detto vabbè sapete che c'è lo sai che quello è stato un passaggio che mi ha fatto impressione cioè quando lui sta in macchina sta guidando e dice al figlio stai tranquillo non possono entrare cioè il fatto che comunque il bambino è terrorizzato cioè là quando si dice la massa no? cioè le persone non sono più persone ma diventano una massa nel momento in cui succede una roba del genere nel momento in cui tu perdi la tua capacità da essere umano e vai lì a sbattere la mano contro un vetro dove c'è un bambino di tre anni dentro terrorizzato e non nessuno manco ci pensa a quella roba lì no poi non si rendono conto che quelle sono persone quello che mi rimane di tutto questo documentario è una visione molto più umana e vicina di un personaggio di una persona come David Beckham l'ho sempre vissuto come diciamo all'inizio come un grande campione un'icona un idolo e il taglio che gli hanno dato gli autori forse la bravura anche del regista nell'avvicinarci a lui come persona oggi mi fanno dire umanamente è una persona che negli anni ha dimostrato anche di avere tanti valori perché cioè io quello che ho colto è che me li ha trasmessi a me è piaciuto vedere mi è piaciuto scoprire delle cose di lui che non sapevo minimamente sia positive sia negative cioè le ossessioni per la perfezione quello da maniaco cioè l'armadio il pezzo dell'armadio è mi hai ricordato un po' te lo so infatti a me è piaciuto invece a me la cosa che ha ricordato un po' me è stato più che ha ricordato un po' me quello che mi piace di lui e che in qualche modo mi piacerebbe avere di lui è questa sua capacità di non essere cioè di non essere come George Best cioè che mi arrivano tutti i soldi e me li sputtano tutti in droghe eccessi eccetera ma non me li tengo neanche in un fondo fiduciario perché do troppo valore etico ai soldi i soldi li spendo ci compro le cose le cose che mi piacciono mi ci godo la vita e costruisco cose costruisco la mia esperienza familiare costruisco l'investo per fare determinate cose amo gli orologi lui ama gli orologi il suo primo orologio tra l'altro è uno yacht master d'oro con un quadrante bianco che compra anche a Victoria Beckham con cui loro annunciano il loro fidanzamento al mondo oggi lui per farti capire quanto è veramente un imprenditore che fa quello che vuole fare cioè fa le sue passioni lui è ama gli orologi è il testimonial di Tudor che è l'azienda gemella di Rolex quindi è veramente un personaggio che su questo profilo qui quello imprenditoriale io stimo tantissimo perché è centrato è centrato riesce a coltivare i suoi stimoli le sue passioni senza mai perdere di vista quelli che sono gli obiettivi economico-aziendali a tutti gli effetti lui oggi ha un impero togliendosi tutti gli sfizi togliendosi tutti gli sfizi quindi chapeau David Beckham per me lo devo dire ho scoperto cose di lui che da piccolo da piccolo amavo e oggi da adulto mi hanno fatto dire beh di certo non è uno scemo e mi piace come come ragione è quello che fa ok grazie per averci seguito fino a questo momento questa era la nostra puntata commento sulla serie Netflix dedicata a David Beckham se vi è piaciuta e vi è piaciuto questo format dite ce lo lasciate qualche commento perché noi vorremmo fare la stessa cosa anche sullo speciale che hanno fatto su Ronaldo il fenomeno di Dazzon quindi tra l'altro ve lo consigliamo di andarlo a vedere se avete voglia sì in generale potremmo affrontare anche video commenti come questo su libri o film dedicati agli sportivi potrebbe essere un format interessante fateci sapere nei commenti sì aspettiamo i vostri suggerimenti fondamentalmente perché a noi lo sport ci piace e l'avete capito di cose ne abbiamo viste e lette diverse se ne vogliamo approfondire alcune fatecelo sapere perché almeno ci dedichiamo a quello se vi va lasciateci un like e seguiteci su tutte le nostre pagine social quindi Instagram dove postiamo quotidianamente TikTok YouTube e Spotify grazie buonanotte e buone cose e buonanotte